Lotto AstraZeneca vietato da AIFA anche nelle Marche, dosi somministrate da ieri nel Piceno e nel Fermano, in area vasta 4,60 le dosi ma nessuna reazione avversa, si attendono i chiarimenti dalla regione, 921 i contagi e 11 decessi, 3 erano sessantenni all'ospedale di Iesi, aperta una terza covideria, Caroli del Gores, situazione pesante a un anno dal primo lockdown, pronto soccorso di Civitanova in affanno, ad Ancona più ambulanze per il 118, anche oggi mezzi di soccorso in coda al Torrette per i sospetti casi Covid, caso stipendi anche i tifosi in ansia per la Samba, intanto il presidente Serafino sta tornando, lunedì chiarirà l'ex Rosso Blu Palladini, tecnico della Porto Sant'Elpidio. Ben ritrovati in una nuova edizione del nostro TG Marche, in apertura come avete sentito dai nostri titoli, subito un aggiornamento sul caso legato alle dosi di vaccino AstraZeneca. Sono state distribuite in tutta Italia anche nelle Marche parte delle dosi AstraZeneca appartenenti all'otto ABV 2856, che dopo alcune reazioni avverse registrate in Sicilia è stato bloccato. Dopo l'allerta arrivato dall'Agenzia del Farmaco, la Regione Marche sta verificando dove sia avvenuta la distribuzione e l'eventuale somministrazione e si attende nelle prossime ore un comunicato ufficiale per fare chiarezza e capire se e come procedere con la vaccinazione. Di certo, nell'area vasta 5, le prime inoculazioni di quell'otto erano iniziate nel pomeriggio di ieri, fa sapere il responsabile del SISP Claudio Angelini. Ma in via precauzionale, l'utilizzo delle dosi di quell'otto è ora vietato in tutta Italia dall'AIFA dopo che la procura di Siracusa ha deciso di aprire un'inchiesta sulla morte di Stefano Paternò, 43 anni sotto ufficiale della Marina Militare ad Agusta, deceduto poche ore dopo aver fatto il vaccino AstraZeneca. I dubbi sono sorti anche sul decesso avvenuto il 6 marzo di Davide Villa, 50 anni, agente dell'anticrimine di Catania. Le loro dosi erano provenienti dallo stesso lotto, proprio l'ABV 2856. Insomma, un'altra grana vaccini per Saltamartini che è in attesa di verifiche da parte di tutte le aree vaste. Tra l'altro, proprio nelle ultime ore, l'assessore regionale alla sanità era finito nel mirino dei consiglieri del PD Anna Casini e Antonio Mastrovincenzo, i quali dopo un accesso agli atti hanno riferito che sono ben 211.740 le dosi di vaccino consegnate alle Marche e non 176.810 come riportato pubblicamente dall'Aggiunta. Al tempo stesso, le dosi somministrate al 9 marzo erano 146.317 contro le 155.014 dichiarate. Mancherebbero dunque all'appello 35.000 dosi, mentre il totale di quelle inutilizzate sarebbe pari a 65.000 unità. Ma la regione Marche ribadisce che erano 176.810 le dosi vaccinali consegnate alle Marche il 9 marzo. Il conteggio si effettua infatti non sulla massima sfruttabilità dei flaconi, ma sul numero delle dosi previste dalle indicazioni dei vaccini. In merito al lotto ABV 2856 di vaccino AstraZeneca sospeso da AIFA nel pomeriggio di oggi, l'area vasta 4 Asur aveva garantito un quantitativo del medesimo lotto che ha provveduto immediatamente a ritirare. Appena ricevuta la comunicazione, nelle 24 ore precedenti sono state somministrate circa 60 dosi di vaccino di quell'otto. Al momento non è pervenuta alcuna segnalazione e direzioni avverse nel nostro territorio. Si rimanda a una comunicazione di Asur e regione Marche che dovrebbe arrivare a strettissimo giro per ogni ulteriore informazione e chiarimento. Nell'Anconetano, in zona rossa dallo scorso 3 marzo, è sempre più allarme aperta la terza covideria all'ospedale di Iesi. Caos anche oggi nel reparto del pronto soccorso, ancora a code di ambulanze accalcate dinanzi a Torrete, il responsabile del Gores, Caroli, 105 ricoverati positivi in una situazione pesante. Le prossime limitazioni del Governo, spiega, saranno strategiche. Ascoltiamo al servizio del nostro Ciro Montanari. In attesa dell'ilavorazione dell'osservatorio epidemiologico regionale per sapere se le marche superano la soglia rossa di 250 positivi settimanali su 100.000 abitanti, continuano le situazioni di caos nei pronto soccorso degli ospedali marchigiani. Queste immagini giungono da Torrette di Ancona, dove dalla mattinata le ambulanze sono ferme in attesa. Nessuno di noi vorrebbe vedere queste scene di ambulanze ferme davanti ai pronto soccorsi. Intanto, il costante aumento dei contagiati ha reso necessaria l'apertura della terza covideria all'ospedale di Iesi, dove, accorpando ortopedia con chirurgia e urologia, sono stati ricavati altri 15 posti letto. Abbiamo creato all'interno del reparto di ortopedia una ulteriore covideria e abbiamo accorpato i letti della ortopedia insieme con quelli della chirurgia e dell'urologia per far sì che il nostro ospedale comunque, anche in presenza di un elevato numero di pazienti covid, potesse continuare a svolgere la sua normale attività chirurgica. Una situazione sempre più alarmante anche a Iesi, per la quale la riorganizzazione immediata dei servizi è indispensabile per evitare il collasso. Il numero di questioni parlano di circa 105 positivi attualmente ricoverati nel nostro ospedale e i pazienti però stanno continuando ad arrivare, quindi li stiamo valutando. Stiamo notando che l'età media dei pazienti che necessitano di essere ospedalizzati si sta riducendo, quindi sta colpendo anche una fascia di popolazione ben più giovane. Intanto il dottor Caroli definisce strategiche le limitazioni che stanno per arrivare dal governo. Le limitazioni so che sono pesantissime per la popolazione però in questa fase io credo che siano strategiche per cercare di contenere il numero dei nuovi pazienti che potrebbero necessitare di ricovero. E ora un aggiornamento legato ai numeri contenuti nell'ultimo bollettino diramato dal Gores. Cresce il numero di casi Covid nelle Marche così come il rapporto tra positivi e testati pari al 21,3%. I contagi nel percorso nuove diagnosi sono 921,339 in provincia di Ancona, 194 in quella di Pesaro Orbino, la provincia di Macerata ne conta 157,96 in provincia di Fermo, 93 in provincia di Ascoli Picciano e 42 casi da fuori regione. Il servizio sanità ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 6.847 tamponi, 4.327 nel percorso nuove diagnosi e 2.520 nel percorso guariti e nelle Marche si registra una vittima in più rispetto a ieri, sono 11 i decessi contati nelle ultime 24 ore di questi 5 in provincia di Ancona, 3 nel Maceratese, 2 nel Picciano e 1 nella Fermano. Quest'ultimo il più giovane, un 64enne di Monte Granaro e l'età media è un dato ormai certo si abbassa anche con due uomini di San Benedetto che erano ricoverati all'ospedale Madonna del Soccorso, rispettivamente di 65 e 69 anni. Tutti avevano patologie pregresse, il totale dei decessi è di 2.384 dall'inizio della pandemia mentre ci sono 9 ricoverati in più rispetto a ieri, ma anche 54 dimessi. No al protocollo della Regione Marche per estendere in questa fase i vaccini alle imprese è la posizione espressa dai sindacati delle aziende metalmeccaniche regionali in una conferenza stampa indetta a Pesaro. I sindacati metalmeccanici regionali di CGL, Cisle e Will si dicono contrari al protocollo approvato dalla Regione Marche per estendere i vaccini alle imprese. Lo definiscono uno slogan, una pubblicità inutile in questa fase. In una conferenza stampa indetta a Pesaro, FIOM, FIM e Willm hanno spiegato i motivi della loro posizione. Stiamo parlando di un accordo dove abbiamo fatto l'87% dei vaccini che hanno le Marche. Come fa a darli il Presidente della Regione alle industrie dove io ho un'industria, ho i soldi, posso vaccinare chi mi pare, perciò io decido chi può vivere e chi può morire? Perché qui diventa poi questo. Perché se i miei dipendenti non si ammalano e invece i dipendenti di un altro non si ammalano ci sono RSA dove ci sono i nostri anziani e ci sono anche associazioni di disabili che chiedono il vaccino e noi lo diamo all'industria, bisogna darle in base a quello che il Governo danno l'indicazione. L'indicazione è la salute, la prima cosa è la salute, la prima cosa non è il soldo, il denaro, il vil denaro, è la salute perché è una cosa pubblica e va fatto pubblico. Qual è la situazione dei contagi nelle aziende metalmeccaniche? La situazione dei contagi va di pari passo nell'azienda e va di pari passo con quello che vediamo nel territorio. Come si è rialzata la curva nella provincia sono riapparsi dei contagi positivi o delle quarantene dentro di dipendenti di fabbriche metalmeccaniche, va di pari passo. Andare avanti con la produzione che sta andando abbastanza bene però in sicurezza? Sì, quello che noi chiediamo è sicuramente che ci sia una ripartenza sulla produzione, fa piacere a tutti e le organizzazioni sindacali non negano questo piacere. Poi chiediamo però che venga tutelata la salute dei lavoratori e che non venga sacrificata appunto al nome della produzione assoluta e senza freni, diciamo così. La dottoressa Rita Curto, primario del pronto soccorso di Civitanova, ci spiega le difficoltà degli ultimi giorni legate all'incremento dei pazienti Covid. Il pronto soccorso di Civitanova Marche dopo quello di Ancona a Torrette è quello che soffre del maggior sovraffollamento negli ultimi giorni per pazienti Covid, un problema davvero insostenibile. Abbiamo avuto un notevole aumento del flusso di pazienti positivi per Covid, si cerca sempre poi di trasferirle in tempi brevi nelle strutture dedicate ma non sempre questo è possibile nel giro di pochissimi giorni per cui iniziano i trattamenti qui da noi. Al momento le criticità maggiori quali sono? Le criticità maggiori sono gli spazi qui nei pronti soccorsi perché ovviamente nessun pronto soccorso era adatto a gestire un'ondata di pazienti infetti così elevata. Abbiamo dovuto riadattare gli spazi, riorganizzarci, togliere spazio alla parte pulita del pronto soccorso per ospitare sempre più pazienti Covid. L'organico del pronto soccorso è di 12 medici ma naturalmente sono insufficienti rispetto alla richiesta degli ultimi giorni. Il rischio è fondamentalmente quello, il famoso burnout, lo stress lavorativo, la stanchezza, le difficoltà logistiche, i turni in più. Il rischio infettivo fortunatamente avendo tutti i DP necessari non lo consideriamo più nemmeno un rischio sinceramente, lavoriamo in assoluta sicurezza. Con le varianti inglesi il virus è mutato e la diffusività è aumentata. Non è un caso che i numeri aumentano una, due settimane dopo festività o eventi e calino invece se ci sono delle restrizioni. L'età si è abbassata perché appunto le persone che hanno più facilità di essere contagiate sono le persone giovani che escono, che vanno al lavoro, che socializzano di più. Per quanto riguarda però il tasso di letalità non sembra essere in incremento anche se comunque la giovane età dei pazienti preoccupa sempre di più. La letalità non è aumentata e al contrario della contagiosità perché questo è il comportamento naturale di un virus che per cercare di sopravvivere cerca di infettare più gente possibile ma di non ucciderli perché sarebbe controproducente per se stesso. Quindi è diventato più contagioso e meno letale o quantomeno con una letalità invariata perché poi i casi di pazienti che non ce la fanno sono quelli di pazienti che avevano già delle comorbidità. Dopo il caos negli ospedali è indispensabile garantire più ambulanze per il 118 ad Ancona. Croce Gialla e Croce Rossa modificano il numero dei mezzi a disposizione per renderne di altri disponibili H24. Giovagnoli, direttore della Croce Gialla di Ancona, spiega grosse le difficoltà nel lasciare i pazienti nel pronto soccorso. La situazione critica per l'accesso ai pronto soccorso con le ambulanze costrette a lunghissime attese ha indotto Croce Gialla e Croce Rossa a modifiche sul numero dei mezzi messi a disposizione dalla centrale operativa 118. Adesso abbiamo aumentato i mezzi disponibili per espletare queste tipologie di trasporti. La Croce Gialla di Ancona ha messo, cioè nella giornata di martedì e mercoledì, ha garantito tre mezzi H24. Poi da oggi sono scese delle consorelle che durante il giorno stazionano qua da noi per dare una mano per quei servizi fuori Ancona. Per i volontari una situazione veramente complicata, costritte ad assistere a scene mai vissute sinora. Non tanto diciamo siamo in sofferenza per il personale per i trasporti ma per la diciamo grossa difficoltà che abbiamo nel lasciare i pazienti nei vari pronto soccorsi perché sono intasati. Nella giornata di lunedì abbiamo fatto anche file di 6, 7, 8 ore prima di lasciare un paziente. La Croce Gialla garantisce due ulteriori mezzi per l'emergenza territoriale della zona di Ancone Comuni Limitrofi, uno H24 ed un altro nell'orario 8.20. Quest'ultimo andrà a garantire la fascia precedentemente scoperta per avere in sostanza due ambulanze sempre presenti 24 ore su 24. Fondamentale la collaborazione con l'Ampas che gestirà un equipaggio in eturnazione dei comuni dell'Anconetano che farà base nel capoluogo. Al più presto pure un secondo mezzo H24 della Croce Rossa. La paura resta però sempre la stessa, quella di continuare a vedere scoppiare i pronto soccorso degli ospedali. Adesso ci sono persone anche più giovani, gente di 30-40 anni e questa variante inglese colpisce anche i giovani nonostante tutte le informazioni che si danno ma la gente ancora ci sono molti scettici che non credono a questa pandemia. Tra i 28 nuovi alfieri della Repubblica designati dal Presidente Sergio Mattarella c'è anche una diciassettenne di Castel di Lama. Si tratta di Martina Di Vardo, una danzatrice pregnata per l'impegno e il senso di solidarietà con cui ha preparato spettacoli che avevano come protagonisti bambini in difficoltà. Un premio che diventa un orgoglio per tutto il Piceno e le Marche. Martina è infatti diventata un esempio nazionale tra i ragazzi capaci di offrire aiuto ad anziani e amici in difficoltà soprattutto in questo annus orribilis di pandemia. E' da pochi giorni entrato in vigore anche nelle province di Ascoli Piceno e fermo il numero unico di emergenza. D'ora in avanti basterà chiamare il 112 per richiedere il soccorso sanitario o quello dei vigili del fuoco oppure l'intervento delle forze dell'ordine e la direttore dell'unità operativa della 118 a fare un primo bilancio del nuovo servizio. E' entrato in funzione anche nelle province di Ascoli e fermo il numero unico di emergenza. D'ora in avanti basterà chiamare il 112 per richiedere il soccorso sanitario oppure l'intervento di polizia e carabinieri ed anche quello dei vigili del fuoco. Un deciso cambiamento nella gestione delle chiamate da parte delle centrali operative che però non ha alcuna ripercussione sul servizio né tantomeno sui cittadini. E' il direttore dell'unità operativa del 118 dell'area vasta 5, il dottor Flavio Pari De Postacchini a fare un primo bilancio del nuovo servizio. Il passaggio è stato abbastanza fisiologico come è previsto. Le chiamate sono state deviate dal sistema telefolico Telecom sulla centrale unica regionale del 112 da qui hanno ricevuto una prima rapidissima valutazione per la tipologia della chiamata e poi girata sia attraverso l'afonia che attraverso il sistema informatico alla centrale operativa nel nostro caso sanitaria del 118. Il cittadino riceve un innegabile vantaggio da questa operazione con l'identificazione del numero unico europeo 112 a cui sono predisposti già i nostri cellulari. Processiamo circa 100 chiamate al giorno di cui in questo caso diciamo con una variabile dal 30-40% in questo momento di richieste Covid. Un banco di prova decisamente importante è quello del nuovo coordinamento delle centrali operative che avviene in piena emergenza sanitaria con un numero importante di chiamate da gestire e con il sistema di emergenza messo a dura prova. Noi continuiamo a avere sia il numero di contagi che le chiamate delle ultime settimane sembra allo stesso livello e avremo necessità e speranza che questi numeri diminuissero rapidamente. I pronto soccorsi stanno ricevendo le nostre ambulanze però siamo tutti nell'emergenza sanitaria al massimo dei giri sia per quanto riguarda l'emergenza territoriale sia per quanto riguarda l'affluenza degli ospedali della nostra area vasta. Allarme pediatria rientrato all'ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto dopo un vertice tra il direttore di area vasta 5 Cesare Milani e il sindaco della riviera delle Palme Pasqualino Piunti il paventato trasferimento dell'intero reparto da Scolipiceno è rientrato risolto dunque anche il problema relativo agli infermieri con l'utilizzo di operatori del Mazzoni ma restano comunque le difficoltà per quanto riguarda la gestione dell'emergenza a livello sanitario. E' stata una notte di furti quella del 10 scorso a Porto Sant'Elpidio dove gli uomini della questura hanno fermato un ventenne. Donate la lappa. E' questo il quartiere di Porto Sant'Elpidio che l'altra notte è stato preso di mira da un ladro che ha praticamente tentato di svaliggiare quattro negozi più i danni che il bottino in definitiva ma comunque tanti disagi per gli esercizi commerciali. Una serie di furti nella notte del 10 marzo a Porto Sant'Elpidio come dicevamo verso le 4 della mattina una telefonata al 113 che segnalava un'infrazione ad una porta di un supermercato. Immediatamente è intervenuta la volante che ha potuto constatare dalla videosorveglianza che si trattava di un uomo vestito di scuro con felpa e cappuccio mascherina sugli occhi e cappellino in testa gli unici elementi per poterlo identificare. Subito dopo un'ulteriore segnalazione di furti consumati un soggetto dopo aver forzato una porta d'ingresso aveva depredato un altro negozio di genere alimentari asportando alcune monete dalla cassa e della frutta per poi dileguarsi nelle strade della città. Nell'allontanarsi aveva danneggiato un distributore automatico di sigarette distruggendone il vetro per tentare di prendere alcuni pacchetti. Dopo questo triplo furto è stata la volta di una farmacia quarta segnalazione dove però c'è stata una testimonia una donna, una vicina di casa che dalla finestra ha visto l'uomo e ha cercato di aiutare la polizia intervenuta anche lì immediatamente per identificare il malcapitato. Nella farmacia depredata per accedere alla quale il ladro aveva infranto la vetrina dopo aver tentato senza successo di farvi ingresso da una porta laterale sui quali sono stati riscontrati evidenti segni di forzatura sono stati asportati dal bancone alcuni prodotti in esposizione e la cassa. Immediate sono scattate le ricerche della volante della questura che ha perlustrato ogni strada corrispondente con la via di fuga segnalata dalla testimone verso sud. Circa dopo una mezz'ora un giovane ventenne vestito con abiti corrispondenti è stato rintracciato e fermato dagli operatori e sottoposto a perquisizione per la ricerca di arnesi atti allo scasso. Trovato in possesso di due grossi cacciaviti e un paio di forbici utilizzati per forzare, il giovane è stato accompagnato in questura dove è stato fotosegnalato a suo carico numerosi precedenti per reatri contro la persona, per spaccio di stupefacenti e contro il patrimonio analoghi a quelli commessi in quella notte. Prima un sopralluogo al traforo di Guinza, l'incompiuta lungo l'affano Grosseto poi un tavolo a Cagli. Gli assessori regionali alle infrastrutture di Marche Umbria Francesco Baldelli ed Enrico Melasecche si sono incontrati questa mattina per parlare dei collegamenti tra le due regioni, tra gli argomenti al tavolo ce ne erano degli altri. Vediamo. Gli assessori alle infrastrutture di Marche Umbria Francesco Baldelli ed Enrico Melasecche Germini si sono incontrati nel territorio della provincia di Pesaro Urbino per parlare di collegamenti tra le due regioni e tra il Tirreno e l'Adriatico Fano Grosseto, Contessa, Quadrilatero e altre infrastrutture stradali strategiche ma anche la linea ferroviaria Orte-Falconara e collegamenti ciclabili. Due luoghi simboli, la Guinza sulla Fano Grosseto l'incompiuta delle incompiute e a Cagli dove noi abbiamo un tratto di strada importantissimo la Flaminia e il passaggio verso l'Umbria un collegamento fondamentale per lo sviluppo economico, turistico del nostro territorio. In un momento come questo la visita del collega Melasecche è una visita che porta risultati concreti perché c'è un accordo su tutta la linea per risolvere problemi infrastrutturali del nostro territorio non solo problemi infrastrutturali stradali ma anche ferroviari abbiamo parlato anche di ciclabili rappresenta davvero una svolta per le nostre due regioni e per il centro Italia. Io ricordo un anno fa circa ad Ancona abbiamo firmato con la Presidente Tesei l'accordo che poi ha portato al tavolo per la Orte Falconara su cui stiamo conseguendo oggi risultati molto importanti proprio su quel tavolo e per quell'asse ferroviario parlavamo prima con Francesco per definire bene alcune priorità per gli investimenti. E ora lo sport i tifosi della Samba sono in ansia dopo il caos stipendi intanto il Presidente Serafino sta rientrando a San Benedetto per l'attesissima conferenza stampa in programma lunedì in cui chiarirà la situazione intanto siamo andati a sentire che cosa ne pensano i supporter Rossoblu. C'è forte preoccupazione fra la tifoseria per il caso stipendi esploso in casa Samba Tutti aspettano le parole del Presidente Domenico Serafino attese per la giornata di lunedì prossimo nel corso di una conferenza stampa indetta dalla Società delle Rile delle Palme intanto però questo è il pensiero dei supporters di Fede Rossoblu. Sicuramente perché sono troppi mesi che i giocatori non prendono lo stipendio quindi tutti parlano di questo c'è il Presidente che ha detto che la prossima settimana dirà tutto quello che lui ha in mente di fare almeno così si spera però la preoccupazione c'è perché tutti i tifosi oramai non so se riescono ancora a credere a quello che dice il Presidente la prossima settimana sarà decisiva e aspettiamo quello che dirà. C'è anche un po' il timore dell'ennesimo tracollo finanziario della società? Infatti soprattutto è di quello che si parla perché visto che già sono successe altre volte c'è questa paura. La tifoseria deve stare calma e vedere gli eventi come si svilupperanno al giro di qualche settimana. C'è paura però che si possa essere un tracollo societario? Speriamo di no. Vuol dire che è una piazza un po' sfortunatella. Molto difficile. Di solito le due cose non vanno mai di pari passo. Le aspettative o quelle che erano le cose che ha dato il Presidente appena arrivato o chi per lui erano altre forse. Nessuno di noi pensava una cosa del genere. Non conosco personalmente la cordata che ci posta dietro alla figura che abbiamo qua a San Menetto però in tanti altri casi è successo che praticamente poi va tutto allo sbarando. Stipendi non pagati è tutto ancora un punto interrogativo. Tutti i Presidenti vengono qui col pacco grosso apri il pacco ci sono sempre dei sassi. Speriamo bene speriamo che non sia un altro venturato e niente sempre e comunque forza Samba. Dalla Serie C alla Serie D è un ex Samba il nuovo allenatore del Porto Sant'Elpidio. Si tratta di Ottavio Palladini che dunque avrà il compito di provare a salvare i marchigiani ultimi in classifica nella Girone F con solo i tre punti conquistati frutti di altrettanti pareggi. Palladini scelto dal direttore sportivo Locossu esordirà probabilmente il prossimo 17 marzo quando si recupererà la sfida casalinga contro l'Agnonese visto che il match di domenica prossima contro il Monte Giorgio è stato rinviato a causa dei contagi riscontrati nei giorni scorsi proprio nella squadra Elpidiense. Questo era l'ultimo aggiornamento il Tg Marche termina qui grazie per l'attenzione e a tutti voi un buon proseguimento in compagnia di Vera TV arrivederci a tutti. Grazie. 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 Grazie.